Ci troviamo invece all'ini, proponiamo questo sette vani posto a un terzo piano. Allora entriamo nell'immobile, abbiamo subito alla nostra sinistra questa bellissima camera super soleggiata come si può vedere, super luminosa, è dotata di porta finestra la quale ci permette di accedere a questo bellissimo balcone, ci dirigiamo verso l'uscita, questo è ciò che vediamo dalla faccia del balcone, quindi rientriamo nella camera e ci dirigiamo verso questa che è la cucina che è collegata ovviamente alla sala, alla pranzo, anch'essa dotata di porta finestra con il gioco di luci non ci fa apprezzare al meglio, ecco la luminosità della stanza usciamo anche da qui, così vi faccio vedere esattamente, quindi via la camera, la sala, usciamo e ci dirigiamo verso le altre due camere da letto singoli, quindi questa è la prima camera singola, e dopodiché questa è la seconda camera singola, e infine il bagno dotato di box doccia coordinata in tutte le sue parti, quindi facciamo un ripeto veloce, una prima camera, la seconda camera, la terza camera, la sala pranzo, con annessa ovviamente la sua bellissima cucina, ora questo gioco di luci, effettivamente, ecco, ci troviamo in via Cellini.